Bimba morta in utero in settimana all'autopsia, la vicenda è accaduta all'ospedale Cardarelli di Campobasso, indaga la procura all'esame sul corpo della piccola, sarà eseguito da un esperto esterno. Continua l'odissea dell'ospedale di Venafro, il Consiglio di Stato sul ricorso di frattura sospeso, la decisione del TAR che obbligava la Regione a ripristinare i servizi del Santissimo Rosario sospeso trasferiti a Isernio. Partenza a vigilanza a fondo dei sindacati, la Regione rispetti gli accordi per quanto riguarda gli uffici di sua competenza sostiene la UIL, invito anche dalla CGL alle istituzioni a regolamentare il settore e tutelarne i dipendenti. Guardia di Finanza ha presentato un volume storico, una ricerca sulle caserme delle fiamme gialle in provincia di Campobasso dal 1864 al 2011, uno studio anche sulla vita del corpo agli autori, due finanzieri Antonio Lanza e Giuseppe Dedona. Benvenuti al nostro telegiornale, ci occupiamo ancora della morte della bambina avvenuta mentre era ancora nel grembo materno la tragedia all'ospedale Cardarelli di Campobasso, ci sarebbero delle novità, sentiamone nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Sarà l'autopsia a chiarire l'assurda morte della bimba il cui cuore ha smesso di battere mentre era ancora nel grembo materno. L'esame sul corpicino della piccola sarà eseguito in settimana da un perito che arriverà da Foggia. La tragedia è stata denunciata in diretta venerdì scorso durante la trasmissione Moby Dick condotta da Giovanni Minicozzi che si occupava di sanità, una notizia che ha gelato tutti per la tragicità dell'evento. La famiglia della piccolissima vittima è chiusa nel suo dolore, intanto la mamma, una donna di 30 anni, non riesce a capacitarsi a dare una spiegazione a quanto è accaduto quella maledetta notte tra giovedì e venerdì all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Era al settimo cielo, ancora a poche ore e finalmente avrebbe visto il volto della sua piccola portata in grembo per nove lunghi mesi. Presto avrebbe stretta a sé la piccola Cristina, questo è il nome che i genitori avevano deciso di darle, invece quella dolcissima attesa si è conclusa nel modo peggiore. La bambina era morta prima ancora di venire al mondo, una morte intrauterina come viene definita tecnicamente. Eppure la gravidanza era trascorsa senza alcun problema dai controlli del ginecologo, era tutto nella norma, la bambina stava bene così come la madre, entrambe in perfetta salute. Ma nonostante la gravidanza fosse arrivata al termine entrando la quarantunesima settimana di gestazione, il momento del parto tardava ad arrivare. La donna, comprensibilmente preoccupata, avrebbe chiesto ripetutamente ai medici di essere sottoposta al taglio cesareo, ma gli stessi medici l'avrebbero rassicurata consigliando di attendere ancora un po'. Invece quel terribile presentimento è diventato una terribile realtà. Ad un certo punto la madre si accorta che qualcosa stava accadendo ed ha avvisato il personale medico, sottoposta a monitoraggio, la ghiacciante scoperta. Il cuore della piccola aveva smesso di battere, è stata estratta dal grembo materno, ormai priva di vita. In ospedale sono arrivati gli agenti della squadra mobile che hanno acquisito tutta la documentazione. I familiari assistiti dall'avvocato Demetrio Rivellino ora chiedono che su questa tragedia venga fatta piena luce. Vogliono capire se poteva essere evitata e se ci sono eventuali irresponsabilità. Sulla vicenda la procura di Campobasso ha aperto un fascicolo, ma al di là dell'esito dell'inchiesta nulla potrà ripagare la madre e l'intera famiglia di una perdita così grave, di una vita spezzata, mentre si preparava ad affacciarsi al mondo. Intanto continua l'odissea del Santissimo Rosario. Frattura fa ricorso al Consiglio di Stato e quest'ultimo sospende la decisione del Tarra Molise che obbligava la Regione a ripristinare tutti i servizi dell'ospedale di Venafro, sospesi o trasferiti a Isernia. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Tempesta a Sanità sul ricorso del Commissario Frattura. Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tarra che ripristinava tutti i servizi e i reparti trasferiti a Isernia. La Regione, la Asrem e il Ministero hanno chiesto e ottenuto la sospensiva della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale in attesa del pronunciamento nel merito del Consiglio di Stato. Intanto i dirigenti dell'Asrem hanno chiesto un parere proveritate ad un Avvocato di Roma, Emilio Ricci, sulla legittimità dei tagli appena fatti all'ospedale di Venafro e in particolare sulla soppressione del pronto soccorso. La politica così continua a fuggire, a nascondersi dietro la Asrem, lasciando in sospeso questioni serissime, dichiarano gli esponenti del Comitato Santissimo Rosario. Il Tarra aveva affermato che la competenza di ogni decisione spettava la politica e non ai tecnici e ai vari commissari ad acta. Aveva anche ingiundo di ripristinare i reparti e i servizi soppressi dal 2010 nell'ospedale Venafrano. Ma l'Asrem, senza curarsene, ha trasferito ortopedia a Isernia ed ora, una volta che quella sentenza ha dato ragione al Comitato, l'Asrem ha chiesto e ottenuto la sua sospensiva in attesa del giudizio di merito del Consiglio di Stato. La politica promette sempre Mari e Monti e poi agisce esattamente al contrario. Nell'ospedale di Venafro c'è da sempre tanto di tabella con su scritto pronto soccorso, mentre viene assicurato a stento il primo soccorso che pure si vuole cancellare. Ci sono tutti gli estremi per agire sul piano penale, per interruzione di pubblico servizio e mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice. Il Comitato non ci sta e produrrà altri ricorsi, sia amministrativi che penali. In pratica l'Asrem, con alle spalle i vertici politici regionali, continua a guadagnare solo tempo. Nel frattempo mettono a serio rischio la vita dei cittadini. CGL e UIL tornano sul tema della vigilanza e lanciano l'allarme per diversi operatori, in particolare Pasquale Guarracino della UIL, attacca la regione invitandola a rispettare gli accordi presi. Sentiamo. Il settore della vigilanza coinvolge in Molise circa 300 persone e 10 istituti con commesse pubbliche e private, traguardie armate e nonne portierato. I segretari regionali di Filcams CGL, Daniele Paduano e della UILTUX Pasquale Guarracino parlano di un comparto dove non esiste regolamentazione, specie per quanto riguarda i cambi di appalto e dunque il ricollocamento dei lavoratori, i pagamenti e per questo chiedono alle istituzioni di intervenire, come ha spiegato Paduano. Noi chiediamo un albo, in maniera tale per avere sotto controllo esattamente il numero degli addetti interessati, anche perché ormai hanno acquisito una professionalità e quindi anche visto che c'è la crisi, come poterli riutilizzare eventualmente. Noi chiediamo due cose molto semplici, dobbiamo distinguere le cose rispetto al problema della vigilanza, la prefettura ha un tavolo tecnico con tutti gli istituti, anche con l'ispettatore al lavoro, con la regione e con i comuni più grandi, per cercare di rimettere, torna a ripetere, a meno quando riguarda i cambi di appalto, due regole principali. Il primo è che si rispettano le leggi e i contratti, il secondo è che nell'ambito dei cambi di appalto, nei bandi di gara chiedo scusa, avvenga una cosa, il pagamento delle attribuzioni in maniera regolare. Comunque noi chiediamo una cosa molto semplice, di avere un piano organico di ciò che la regione vuole fare. Duro, durissimo l'affondo poi di Guarracino sulla vigilanza agli uffici regionali, c'è stato un accordo con la regione che sia rispettato. Le tre postazioni vengono restituite, l'azienda a questo punto cessa i licenziamenti e quindi il risultato è raggiunto, tant'è vero che il presidente Frattura non ha perso un secondo a vendersi la notizia dicendo sul sito regionale, e ne abbiamo chiaramente prova, che aveva scongiurato i licenziamenti e trovato la soluzione. La vergogna dov'è? È che un secondo dopo bisognava ridare quelle postazioni tolte all'istituto di vigilanza, così non è stato fatto e quindi ad accordo raggiunto, a conferenza stampa del presidente della regione, con l'assessore al lavoro contento di aver risolto almeno un'avvertenza nella sua vita, ci rendiamo invece conto che questo non è accaduto e che adesso le tre postazioni ancora non sono state date e con ogni probabilità i lavoratori verranno licenziati. Cinque lavoratori, cinque famiglie, cinque persone che percepiscono mille euro al mese, non quindicimila, mille euro al mese. E di questo hanno una grossa responsabilità la nostra politica, ha una grossissima responsabilità. Ma io mi domando se nel momento in cui si fa un accordo e nel momento in cui il presidente della regione benedice con tanto di conferenza stampa questo accordo, per quale motivo poi dopo non si è conseguenziali? Mi do anche, provo a darmi anche una risposta, una grandissima incapacità. Una bomba carta è esplosa questa mattina a Termoli in via Mario Milano davanti a un negozio di calzature. L'esplosione avvertita in tutto il quartiere c'è stata intorno alle sette. Limitati i danni alla saracinisca dell'attività, probabilmente si è trattato di una bravata, sul caso comunque indagano i carabinieri. E 15 locali pubblici controllati tra Campobasso, San Massimo, Petrella Tifernina, Ripalimosani e Campochiaro, 105 persone e 53 intrattenitrici di sala identificate. Una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e l'esito delle verifiche della questura di Campobasso su impulso del questore Raffaele Pagano per arginare uso di droga e alcol. Gli agenti hanno trovato anche due extra comunitari senza permesso di soggiorno, uno dei quali minorenne, affidato alla Polizia Municipale per il collocamento presso una comunità. I controlli proseguiranno. A quasi 13 anni dal crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia arriva una sentenza civile che riconosce un risarcimento di 320 mila euro per ciascun genitore delle vittime. Sentiamo Manuela Iorio. Mancano poco più di dieci giorni all'anniversario del terremoto di San Giuliano di Puglia. Sono passati 13 anni dal quel maledetto giovedì quando il tetto della scuola Jovine, da poco ristrutturata e dotata di una sopraelevazione, si sbriciola travolgendo alugne e maestre. Sotto le macerie restano sepolti i corpi di 27 bambini e della loro insegnante. Una tragedia immane che sconvolge il mondo intero, che subito avvia un'imponente raccolta fondi, ma che distrugge soprattutto la piccola comunità del cratere, con un'intera generazione cancellata. A 13 anni da quel drammatico 31 ottobre arrivano anche i primi risarcimento alle famiglie. Il giudice, previati del Tribunale di Campobasso nella sentenza del processo civile intentato da 13 famiglie, ha riconosciuto un indennizzo di 320 mila euro per ciascun genitore, più la metà per ogni fratello delle vittime. A doverli pagare saranno i cinque imputati già condannati in sede di processo penale, e cioè il responsabile dell'ufficio tecnico del comune Mario Marinaro, il progettista e direttore dei lavori Giuseppe Laserra, il sindaco di allora Antonio Borrelli, che nel crollo ha perso una figlia, e gli imprenditori Giovanni Martino e Carmine Abiuso, oltre che il comune di San Giuliano di Puglia, che è stato citato in giudizio insieme al Ministero dell'Istruzione, il quale però non è stato ritenuto responsabile. Le famiglie, assistite dagli avvocati Nicola De Pascale, Sante Foresta, Graziano De Giovanni e Marco Mancuso, avevano chiesto un milione di euro per ogni vittima. I legali ora valuteranno il possibile ricorso sull'esclusione del Ministero dalla sentenza di risarcimento. Già la Cassazione aveva deciso una provvisionale di 100 mila euro per ogni vittima, che però non è mai stata pagata. Ora si aggiunge anche la sentenza civile con un nuovo risarcimento, che però difficilmente i condannati potranno pagare. È per questo che è probabile che le famiglie chiederanno l'intera somma, circa 10 milioni di euro, direttamente al comune. Un debito prima di tutto morale, che il comune evidentemente potrà onorare solo con l'intervento dello Stato. Intanto si aprono le porte anche ai possibili ricorsi. Sulla proposta di due parlamentari del PD di passare da 20 regioni a 12, in particolare aggregando la provincia di Sernia ad Abruzzo e parte delle Marche, quella di Campobasso a Puglia e parte della Basilicata, è intervenuto anche il sindaco di Roccamando Alfigiacomo Lombardi. Un'ipotesi ha affermato che metterebbe a rischio l'integrità geografica, culturale ed economica del nostro attuale territorio, costruita in 45 anni. Rivedere l'attuale assetto istituzionale, ha detto ancora, non vuole dire questo e argomenti simili non possono né devono essere calati dall'alto, badando a ragioni unicamente economiche, senza tenere conto di usi, costumi e soprattutto della volontà del popolo di cui si vanno a decidere le sorti, ha concluso Lombardi. Buone notizie per le donne che vogliono avviare un'impresa. Il Governo ha infatti previsto delle agevolazioni. Le modalità per beneficiarne sono state illustrate durante un incontro organizzato dal Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Sernia. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Prosegue il rapporto di collaborazione tra la Camera di Commercio di Sernia e il Comitato per l'imprenditoria femminile. Dopo l'avvio dei corsi d'inglese sul sistema moda, tra l'altro prossimi alla replica, ora si lavora per dare l'opportunità alle donne interessate a investire sulle loro idee imprenditoriali di ottenere dei finanziamenti a condizioni agevolate più un'altra serie di servizi. Stiamo mettendo praticamente il focus e la luce su una misura che è una misura del settore finanziario per finanziare le imprese dove c'è la partecipazione sia femminile ma anche dei giovani fino a 35 anni. Questa è una misura molto importante perché dà la possibilità di avere finanziato il 75% dell'investimento a tasso zero, restituibile fino a un massimo di 8 anni. Quindi questa è una cosa molto importante. Bisogna anche attivarsi subito perché dal 13 gennaio del 2016 possono presentarsi le domande. In Molise le attività gestite da donne sono già numerose e rappresentano poco più del 28% del tessuto imprenditoriale, la percentuale più alta in Italia. La nostra regione detiene il primato grazie soprattutto a un numero consistente di imprese agricole e di attività di servizi per la persona. Ma la nuova ondata di finanziamenti previsti abbraccia anche altri settori. Lo sportello informativo attivato alla Camera di Commercio di Sernia darà tutte le informazioni necessarie. Parliamo del decreto legge 140 del luglio del 2015 che va a finanziare quelle che sono le attività in imprese femminili che abbiano una componente femminile maggioritaria. Parlo di imprese individuali e imprese societarie, quindi in tema di quote e di compagine sociale. Gli investimenti ovviamente possono essere richiesti e vanno a coprire quelle spese che sono spese in beni immobili e in servizi, consulenza, qualificazione dei dipendenti e qualificazione propria e ovviamente tutte le risorse immateriali gestionali dell'impresa, compresa la proprietà intellettuale. Quindi un oggetto di finanziamento di assoluta rilevanza. I settori di appartenenza delle imprese per avere il finanziamento sono i settori molto aderenti alla realtà regionale di occupazione femminile, sono innanzitutto il settore della produzione primaria di beni, quindi il settore soprattutto agricolo, erogazione di servizi a livello sociale e di servizi relativi al turismo. Si è svolto alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso il convegno le terapie cellulari nelle malattie cardiovascolari, realtà e prospettive future. Nel corso dell'evento a cui hanno partecipato qualificati i relatori di rilievo internazionale, sono stati anche presentati i risultati della ricerca sull'applicazione delle cellule staminali autologhe derivate dal midollo osseo, che è uno dei punti di forza del Dipartimento di Malattie Cardiovascolari della fondazione diretta da Carlo Maria De Filippo. I risultati finora ottenuti hanno suscitato l'interesse delle comunità scientifiche nazionali e internazionali. Verrà infatti promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Vascolare, uno studio che coinvolgerà oltre 30 centri in Italia e che sarà coordinato proprio dalla Cattolica di Campobasso. I principali ricercatori sono Pietro Modugno, Eugenio Caradon e lo stesso De Filippo. Nel corso del convegno è arrivata anche una nota del ministro Lorenzin, la quale era stata invitata alle staminali, rappresentano una nuova frontiera della medicina e una speranza, scritto l'incontro alla fondazione di Campobasso rappresenta un proficuo confronto e riflessione. Venerdì 23 ottobre al Neuromed di Pozzilli si terrà un incontro per sensibilizzare i giovani sul tema delle malattie rare e sull'importanza della ricerca scientifica. Ne abbiamo parlato con l'organizzatrice Palmina Giannini. Sono raro ma per questo non diverso. È il titolo dell'incontro dedicato alle malattie rare e discene al Parco Tecnologico del Neuromed di Pozzilli venerdì 23 ottobre a partire dalle 9.30. Lo ha organizzato Palmina Giannini. La madre Coraggio di Venafro, che dopo aver lottato contro le malattie che hanno colpito il marito e il figlio, la SLA e la neurofibromatosi, ha deciso di continuare a impegnarsi con l'obiettivo di far capire a tutti le sofferenze e le enormi difficoltà che si incontrano ogni giorno. Quest'anno mi rivolgo soprattutto ai giovani e in particolar modo alle scuole medie perché saranno le colonne della nostra futura società e loro devono percepire e capire che la vita non è purtroppo sempre felice e voglio insegnare a loro che si soffre. Tanti ragazzi vivono in una condizione di vita positiva ma tanti altri loro coetanei vivono in condizioni disagiate perché sono state colpite da patologie difficili e queste malattie sconvolgono la vita non soltanto al malato ma tutta la famiglia e ai parenti. Durante l'incontro sarà presentato anche il libro Il volo di Pegaso. Sarà inoltre posta l'attenzione sull'importanza della ricerca scientifica e sulla necessità di sostenerla soprattutto in questa fase in cui le risorse scarseggiano. La ricerca scientifica non esiste più, tagli e ritagli non c'è rimasto più nulla, i ragazzi ricercatori sono costretti ad andare all'estero, quando noi invece abbiamo in Italia persone eccellenti, altamente qualificate. Che cosa desidero dire a questi ragazzi? Abbiate bene al prossimo, vogliate bene al prossimo perché è importantissimo volersi bene. Il volo di Pegaso non è altro che un racconto di vita vissuta, di persone malate, altamente disagiate, del dolore che provano a vivere condizioni difficilissime, ma non soltanto a livello familiare, sociale, perché poco considerate, non ci sono le attrezzature giuste. Noi siamo un popolo diverso dagli altri, purtroppo siamo un popolo diverso. Il presidente della Fondazione Neuromed di Pozzilli, Mario Pietracupa, al circolo ufficiale dell'Aeronautica Militare di Roma ha ricevuto due prestigiosi premi. Primo riconoscimento, quello della Norman Academy Inc., Accademia Internazionale di Cultura per gli Studi Scientifici, Umanistici, Teologici, Sociali, Pedagogici ed Economici. Si tratta del premio Capitolino d'Oro, 2015, omaggio a Ruggero II ed è stato consegnato a Pietracupa per la sua attività nel settore manageriale dal Duca Don Riccardo Giordani di Willenburg. Il secondo premio sulle orme di Antonio Ambroselli, fare memoria per un futuro di pace, 2015, è stato consegnato dal presidente dell'Associazione Antonio Ambroselli, il Cavalier Sandro Ambroselli per l'attività svolta nei settori umanitario e di solidarietà. Le caserme della Guardia di Finanza nella provincia di Campobasso dal 1864 al 2011, frammenti di vita del corpo e il volume, la ricerca storica, dei finanzieri Antonio Lanza e Giuseppe Dedona in servizio nel capologo. Il libro, con la prefazione del comandante regionale delle fiamme gialle Vito Straziota, è stato presentato all'archivio di Stato di Campobasso. Sentiamo. Documenti inediti, foto d'epoca, testimonianze del tempo e della storia, un lavoro paziente e certosino durato un anno, quello dei finanziari Antonio Lanza, anche giornalista, e Giuseppe Dedona in servizio a Campobasso. Un lavoro che hanno racchiuso nel volume le caserme della Guardia di Finanza nella provincia di Campobasso dal 1864 al 2011 e frammenti di vita del corpo. presentato all'archivio di Stato di Campobasso, dove hanno condotto le ricerche incrociandole con i materiali del Museo Storico della Guardia di Finanza, facendo rivivere le cronache del tempo. Interessante il particolare del caso di alcune località che potrebbero sembrare minori, tipo Sepino, dove addirittura sono state individuate tre caserme. Siamo praticamente sul finire del 1800. Abbiamo voluto citare due date nel titolo, 1864 e 2011. Perché? Perché 1864 è la prima caserma della quale esistono tracce documentate, ed è Campomarino la prima caserma, quella che possiamo definire più antica e individuata. 2011 è l'ultima inaugurata a Larino ed è dedicata al finanziario Amore un collega morto in servizio. Una ricerca nata guardando le litografie al comando regionale della finanza Campobasso, nata dalla curiosità, quindi, di sapere quante e dove fossero state le caserme in passato, quelle che non ci sono più, ma anche per conoscere com'era la vita dei finanziari nel periodo post-unitario. Penso piuttosto dura. Immaginiamo all'epoca la situazione socio-economica, soprattutto dopo appena l'Unità d'Italia, qui ancora c'erano situazioni un po' instabili. Poi le difficoltà di comunicazione, perché la viabilità che c'era all'epoca era abbastanza difficoltosa. Alcune immagini che abbiamo trovato, storiche, proprio possono rendere l'idea dei sacrifici che affrontavano allora i nostri colleghi. Abbiamo trovato le nostre caserme in, mi sembra, otto comuni. Questo è un dispendic review, tra non molto chiuderemo purtroppo anche la brigata di Agnone. E tra i documenti trovati abbiamo trovato il comunicato con cui veniva inaugurata la caserma di Agnone, 1949. Dopo 66 anni verrà chiusa. La prefazione del libro è del comandante regionale delle Fiamme Gialle Vito Straziota. Lo costruivo un atto di amore verso l'istituzione, come ho già ripetuto e come ho indicato nella prefazione della monografia. Ci consente di riflettere su che cosa siamo stati nel tempo. E' stato definito il signore dell'encausto, arte che custodisce con passione, Michele Paternuosto, originario di Toro, nel corso di mezzo secolo di attività, nel suo studio a pochi passi dal Colosseo, ha creato preziose opere con questa antica tecnica. Anche il prestigioso mensile archeo gli ha dedicato una pagina anticipando la mostra personale di Paternuosto che si inaugura oggi ad Aquino, nel Lazio, e resterà aperta fino al 21 novembre. Ma sentiamo Giuseppe Carriera. Aveva sei anni quando con il papà visitando gli scavi di Pompei rimase affascinato dall'encausto, la tecnica pittorica che esprimeva tutta la sua bellezza nella Villa dei Misteri. Erano gli anni 50. Da allora il maestro Michele Paternuosto non ha mai smesso di studiare, ricercare e affinare una tecnica di cui è rimasto forse unico custode. Prima nella sua Toro, in Molise, dove è nato, poi a Campobasso, Don Nicola Rago e Angelo Fratipietro, i maestri locali. Il primo gli trasmise la tecnica, la precisione, il secondo l'abilità nel gestire colori e supporti anche con la scarsità di mezzi dell'epoca. E fu subito arte. Dalla prima volta quando io ho visitato Pompei, la Villa dei Misteri, dove mio padre mi diceva che queste pitture non erano più praticate perché si era persa la tecnica e il processo. Io ho promesso a mio padre che da grande l'avrei fatto. C'è da dire una cosa però, perché io parto da Campobasso lavorando con i mezzi poveri, molisani, perché non è che c'era granché a Campobasso da poter fare. Ero abituato alle mestiche pittoriche, ma più comprata dal genere alimentare che dal coloraro. La domanda era, gli antichi romani ci avevano i colorari? No. Allora che cosa facevano? Andavano alla natura, direttamente alla natura. Allora se ci andavano i romani ci vado pure io. Forte da quell'esperienza molisana, ho comunicato il tutto, eccolo là che è venuto fuori questo bel capolavoro di pittura. Ora, dopo oltre 50 anni di prestigiosa carriera, il maestro Michele Paternosto ha raccolto molte delle sue opere, create nello studio a due passi dal Colosseo, in una mostra che da oggi resterà aperta fino al 21 novembre nella prestigiosa cornice del Museo di Aquino, che si trova in provincia di Frosinone ma a pochissima distanza dal Molise, a mezz'ora di macchina ad Avenafro. Una occasione concreta per fare un salto all'indietro nel tempo, alla scoperta di una tecnica in cui c'era, fuoco e pigmenti come nero, cinabro, minio, in una intensità cromatica unica, restituiscono il fascino di un'arte preziosa come la storia. È tutto, il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito e arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS